Intro Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi ragazzi ci troviamo su Clash Royale Siamo tornati su Clash Royale per un piccolo appuntamento ragazzi Non penso di tornare a riportarlo come prima a Sidu raga perché è un gioco che mi dà veramente sui nervi In una maniera che voi non avete idea, quindi mi sono un po' disintossicato ragazzi E ci gioco una volta ogni tanto per divertirmi e basta Perché se gioco in maniera diciamo un po' più competitiva per cercare di salire di arena ok, partono le bestemmie ragazzi Quindi signori fate questa piccola premessa, andiamoci ad aprire le casse che abbiamo da aprire insieme oggi Vediamo un po' se troviamo qualcosa, abbiamo 92 di oro, le due gemme, un goblin cerbottaniere, 11 mortai, oh mio dio che schifo Andiamo avanti ancora con il secondo baule omaggio, abbiamo 91 di oro, 10 sgherri, 2 valkyrie e ci siamo anche qua Partiamo adesso con le casse oro per terminare con il baule della corona Ragazzi i due bauli speciali per il momento li lascio lì Vediamo un pochino se riesco a trovarne altri due casuali ragazzi E non per forza magical, non per forza giganti Due bauli casuali che siano speciali per poi fare un chest opening diciamo un po' bello, decente Ecco così, continuiamo con i nostri bauli d'oro raga 243 di oro, 7 barbari scelti, oh mio dio 13 barbari normali, 14 spiriti del ghiaccio che male non fanno 4, 3 moschettieri che ne ho 50 milioni Andiamo con la seconda cassa raga Vediamo un po', 227 di oro, 2 cannoni 14 scariche, molto molto bene 19 sgherri, ultima carta, 3 fornaci Mamma mia, il cancro che sale Andiamo con l'ultima cassa di oggi ragazzi che abbiamo il baule della corona E vediamo un pochino se riusciamo a trovare qualcosa 577 di oro Due gemme, due domatori che mi fanno veramente stracomodo Perché sto cercando piano piano di portarlo al 9 Andiamo avanti con frecce 5 giganti, ultima carta 48 barbari scelti, mamma mia ragazzi Io i barbari scelti sapete che li ho potenziati Giusto per usarli per andare a fare il cancro online Ma ovviamente non è il mio deck Non lo uso e li odio profondamente Signori, la situazione è questa Il nostro deck è sempre questo Mi ci trovo sempre molto molto bene Qua oggi per me è domenica ragazzi Sto registrando di domenica C'ho sia il mastino lavico Che il baule leggendario 500 gemme Per il momento ragazzi le tengo Mi piacerebbe poi magari quando facciamo Il chest opening con 4 casse speciali Se ci fosse questa offerta qui del baule leggendario D'una a 500 gemme Mi piacerebbe veramente prenderlo in quell'occasione Ok ragazzi ho fatto qualche partita Ma sono andate veramente tutte da schifo Questo gioco ragazzi mi sta veramente portando all'esasperazione Ed è proprio per questo che non lo sto più portando sul canale Cerchiamo di prenderci questi due slot bauli insieme Questi due bauli per riempire gli slot bauli Per poi chiudere assolutamente l'episodio Prima che schizzo male ragazzi Perché questo gioco mi sta veramente facendo schizzare male Tra l'altro ragazzi ho trovato anche dei cancri Che ridevano, piangevano e così Quindi signori è molto 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 probabile Che se vinco gli tiro dietro tante di quelle madonna a sto tipo Che anche se so che lui non se ne merita Ma non me ne frega un cazzo ragazzi Se gliele tiro comunque ok Ok allora abbiamo lì Una carta che fa veramente tantissimo danno E un grandissimo tank Dobbiamo assolutamente bloccarlo Blocca il tutto Ok perfetto andiamo a bloccare No 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 scheletrini di merda no Ok tutto giù perfetto Ok raga Ok Eh bro è inutile che ti incazzi eh Tanto il danno me l'hai fatto Quindi non rugare la minchia Attacco anche con il domatore Anche se non avrei dovuto E lo so ragazzi Però facendo così Gli indebolisco già un pochino il mago E gli ho comunque tirato Qualche altra bella lorda E ci siamo anche presi Tra l'altro La torre il mago in teoria Non dovrebbe farci più di tanto danno Vediamo un po' Ok perfetto ragazzi Mago bloccato Lui purtroppo ha messo l'estratore di Elisir Io non sono ancora pronto per bloccarlo ragazzi Metto qui un moschettiere E siamo pronti a lanciare Il nostro minatore Ok perfetto Lui va con il razzo sul moschettiere Quindi spreca ben Sette di Elisir E noi gli togliamo quasi completamente Il suo estrattore ragazzi Questa Questa mossa mi è andata Mi è andata bene Diciamo che mi è andata bene Sono contento di com'è andata Devo assolutamente No No principessa del cazzo Ti odio Ti odio princess del cazzo Ok Allora la principessa ha fatto una cosa Che non doveva assolutamente fare Andata dalla parte totalmente sbagliata Devo cercare di bloccare il moschi Ok moschi bloccato Lì ragazzi mi prendo i colpi dai Dai cosi Perché non Ok mettiamo qua il moschettiere Per bloccare un po' di più Andiamo con lui qui La tronco la mettiamo di qua Per fare del danno Allo stregone Perché altrimenti ci prende la torre Ed è andata abbastanza bene Raga se riesco a mettere lui qui Dai 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 Ok perfetto raga Perfetto raga Perché lui ci ha preso una torre Però noi gli abbiamo praticamente preso anche La seconda Molto molto bene ragazzi Ok andiamo con lui qua Lui lo mettiamo di qua Mettiamo qui lei Assolutamente Ok di lì C'è il nostro tank Che le sta prendendo per noi Si sta sacrificando alla grande Per la squadra Se magari il mio moschettiere Non facesse ste cazzate Sarebbe una gran figata Ok andiamo con lui qui Lui lo mettiamo di qui Mettiamo anche una princess Da questo lato E penso che a questo punto ragazzi La partita sia assolutamente nostra Anche se lancia il razzo Non può farci niente E signori Delle belle lacrimine Gli le lanciamo Così impari ad incazzarti Ok Baule d'argento per noi ragazzi Continuiamo E cerchiamo di prendere Anche la seconda cassa Sperando che sia speciale ragazzi In modo tale da accumularla Per fare poi il video Dell'unboxing Ok andiamo con una buona fortuna Come sempre Mi sono sfogato con Con quello di prima ragazzi Quindi adesso cercherò di essere Il più leale possibile Sempre che questo qui non sia Un eccolo là Un cazzo di cancro di merda Perché ragazzi Questo gioco è diventato una cosa assurda O usano I cazzo di Di cose qui O usano i cazzo di cose qui Cioè Raga Mi ha già preso la torre Raga Raga mi ha già preso la torre Ma è assurdo È assurdo Raga No Questo gioco qui si è troppo rovinato Con Con quei minchioni scelti lì Si è troppo rovinato Raga Non puoi farmi una combo Che mi prendi la torre Solo con quella combo Cioè raga Non è possibile Non è possibile raga Non è possibile Solo perché io ho deciso di mettere Il cavaliere a destra Anziché a sinistra Cioè raga Non è Non è fattibile Capite Uno Uno può farlo Questa cosa qui Cioè uno non vede l'altro Che cosa mette giù E mette giù a caso Sulla destra Piuttosto che sulla sinistra E vai ancora di Barbari scelti E vai ancora di Barbari scelti Poi ovviamente Ce li hanno Li continuano a mettere È normale Ok Siamo riusciti a deviarli un po' Ci fottiamo alla grande il tank Ti prego rimani vivo Fortunatamente è rimasto vivo Per dare qualche colpo A lui Tra l'altro ci ha cannato Malissimo Con la scarica Ma ragazzi Non c'è Non c'è assolutamente Non possiamo fare niente Purtroppo non possiamo fare Assolutamente niente Questa partita è già persa Ce la metterò tutta Ragazzi Ma se questo qui Non fa Un errore Per noi Questa partita è andata È persa Ok Allora Giù i cosi lì I patatini Devo cercare di fargli Sprecare un po' Di lisir Dall'altra parte Ragazzi Vediamo un po' Se ce la faccio Utilizzando la princess Ok Ancora loro Naturalmente Andiamo a mettergli Qui lui Andiamo a fare così Che ci togliamo Quei cosi Dalle pa... Perfetto Ok Ok Andiamo di nuovo Con il nostro domatore Magari se andasse giù Quella cosa di merda Ok E noi lì La torre dovremmo Non è vero Sì invece L'abbiamo presa Ok Fantastico Dobbiamo assolutamente Difendere con tutto Quello che abbiamo Anche se La vedo veramente Tragica Recuperare Visto che lui C'ha ben 3000 Di vita Sulla torre Mentre noi abbiamo Soltanto 700 E lui ha I barbari scelti Ragazzi Andiamo a mettere Due truppe Per fare un po' Di danno Ma devo assolutamente Tenermi l'elisir Per pararmi Il culo Ok 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 Andiamo così Lui comunque Il colpo ce l'ha dato Abbiamo 200 Di vita Quindi mi sa che qua È proprio Finita È finita Dai Dai che magari Facciamo il pareggio Dai che facciamo il pareggio Dai che se pareggio Sono contento Ok Sudden death Ok 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 Allora lui Abbiamo una buona combo Quindi vado dall'altra parte Solo con lui Per vedere Ok Ha sprecato l'isir Raga Ok Andiamo con la scarica Dai Ok Allora Il problema sono le sue frecce Ragazzi Il problema sono Ecco Oddio Eh vabbè raga Eh vabbè Ce l'abbiamo messa assolutamente Tutta Tra l'altro abbiamo giocato Molto meglio di lui Perché abbiamo fatto Un ripresone Della madonna Purtroppo aveva sia frecce Che scarica E quindi è riuscito a portarci via La seconda torre Pazienza Per noi ragazzi Ci facciamo l'ultima battaglia insieme Vediamo se riusciamo a prendere L'ultimo baule Di questo video Dopodiché Signori Ci salutiamo Ok signori Parto violento Parto molto molto violento Vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa Non riusciamo a fare niente Perché c'ha delle carte Abbastanza bastarde Come quello Che avevo contro prima Maledizione Ok Ok Allora Quella è un'altra carta Abbastanza tumorale Che mi sta un po' Sui coglioni Vediamo con che cosa La utilizzerà In combo Ok No Ha deciso di andare Con la tronco Per bloccare La mia princess Il che Ci va anche Abbastanza bene Subiamo Un solo colpo Da parte sua Andiamo con Mago di ghiaccio E che cazzo Non va bene Ma non importa E la madonna Pure la tornado Ok 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 Raga Ok Allora Vediamo un po' Se mette un tank Non mette un tank Faccio così Raga Perché devo bloccare Il più possibile Raga Erano le uniche due carte Che potevo mettere In questo momento Ok Allora andiamo così E lui ci va ancora Con quello Raga Eh la vedo tragica Eh La vedo Tragicissima Signori Ok Gli abbiamo comunque tolto La maggior parte Della vita Andiamo con la tronco Se si vuole Lanciare Gli togliamo Tutte le sue carte E Diciamo Equilibriamo un pochino La situazione Che non è Equilibriata Raga Perché Visto che c'è anche La tornado Sarà Diciamo un po' Difficile Ok Mettiamo qui una princess Vediamo se usa la tornado Sulla princess Per avvicinarsela No Utilizza la tronco Ok Ok raga Non importa Non importa Vediamo un po' Facciamo così Questa volta ci va Niente Niente raga Mamma mia Ok Riusciamo a dargli Almeno una martellata Molto bene Ci andiamo con il nostro moschi Andiamo con il nostro E ciao Qui ci fa il danno Qui ci fa il big danno Ragazzi Dai moschettiere Stai in vita Non è stato in vita Il moschettiere Maledizione Ok Andiamo così Andiamo così Vediamo se riusciamo Un po' a distrarlo No Niente Niente raga Purtroppo c'è una tattica Che è abbastanza Abbastanza pesante Contro il nostro deck Se state vedendo Facciamo così Vediamo un po' Hola Anche il razzo Allora Avendo utilizzato lui Il razzo Dovrebbe aver speso Abbastanza Se io mi faccio Un piccolo investimento In questo momento Non dovrebbe riuscire A fermarmi tutto Invece riesce a fermarmi Ogni singola cosa Ma porca di quella puttana Teniamo almeno in vita Il moschettiere Dai moschettiere Ok Moschettiere in vita Dai fammi un po' di danno Niente La torre Noi purtroppo L'abbiamo persa Ragazzi Mancano 12 secondi Assolutamente Non faremo mai In tempo Nella vita Ad andare a prendere La sua torre Lancio anche La tronco Lancio anche La scarica Ma non c'è stato Verso Ragazzi Per veramente poco Tra l'altro Se il domatore Avesse dato il colpo Probabilmente Ce l'avremmo fatta Non importa signori Abbiamo preso Soltanto una cassa Oggi Ma va bene Lo stesso Purtroppo il gioco È diventato abbastanza Ingiocabile Ragazzi Almeno a me Non piace più Come all'inizio Ci sono troppe Legendarie Ci sono i barbari scelti Che rovinano Completamente Il metagame Sono troppo Troppo sbilanciati Ragazzi E questi sono i risultati Signori Io spero Che questo nuovo Video su Clash Royale Che ha fatto un piccolo Ritorno sul canale Vi sia piaciuto Nel caso vi sia piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Io come sempre Vi saluto E vi ringrazio tanto Qui da vostro caro Brutal Un salutone Bella raga